Si tratta di riflessioni preziose, anche in vista dei cambiamenti opportuni che, come abbiamo sentito, il servizio si intende realizzare per rendere il servizio civile sempre più utile allo sviluppo solidale della nostra società, alla formazione dei giovani, più utile il rafforzamento di quella cittadinanza attiva che in ogni democrazia è presupposto essenziale.